Un saluto dal Tg della mobilità, polveri sottili oltre i limiti anche nella giornata del 2 gennaio su 5 delle centraline di monitoraggio dislocate sul territorio della capitale. Da qui l'ordinanza del sindaco per lo stop di alcune categorie di veicoli nella giornata odierna, blocco che si aggiunge ai rivieti già in vigore. Dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 16 alle 19 quindi oggi non possono circolare nella fascia verde gli autoveicoli a benzina sino a Euro 3, le autovetture a gasolio sino a Euro 4 e i ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio sino a Euro 2. Inoltre domani a Roma saranno spenti i riscaldamenti di tutti gli uffici pubblici che non svolgono servizi essenziali e nelle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, regione e città metropolitana e da Roma capitale. E tutto appuntamento alla prossima edizione.